Ok, ti guido al volo sui tre segni che probabilmente lui è interessato a te. I don't even remember the name, let me just check it out. Allora, i tre segnali principali che indicano che un uomo sicuramente è interessato a te sono molto, molto semplici e basici. Praticamente il primo è l'atteggiamento e i comportamenti. Adesso mi direi, wow, hai scoperto l'acqua calda? Molti di voi pensano che abbia scoperto l'acqua calda, in realtà sì. I just found out hot water. Ho appena scoperto l'acqua calda e voi siete degli idioti a pensare che io debba aver scoperto l'acqua calda perché in realtà l'acqua calda la dovreste scoprire voi prima di me. Quindi in realtà se tu pensi che io abbia scoperto l'acqua calda vuol dire che tu non hai tenuto in considerazione il fatto che io abbia scoperto l'acqua calda e quindi tu avevi qualcosa sotto il naso e te la sei lasciata scappare e non hai applicato la tecnica giusta, l'approccio giusto nei confronti di un uomo. Quando ti rapporti con un uomo, molto molto semplice, super super semplice, quello che vuoi fare di base è questo. Prima di tutto valutare i suoi atteggiamenti e comportamenti. Atteggiamenti e comportamenti ti traduce in questo modo. Quando tu ti rapporti con un uomo, in realtà quello che ti interessa è tutto quello che fa e non quello che dice o quello che ti scrive per messaggi come piccola principale parte di, tra virgolette, rapporto, quindi nel senso tipo di rapporto, importanza del rapporto, eccetera. Perché ti sto dicendo questo? Perché quando lui fa cose per te, quando lui si applica per te nel modo giusto e ha una certa cadenza anche nel vederti, no? Che adesso vedremo insieme e quindi a livello comportamentale è presente e segue quindi una certa stabilità in realtà puoi pensare che sia interessato, ok? Quando è che un uomo non è interessato a te? Quando gli atteggiamenti e i comportamenti in realtà vanno in tutta altra parte, quindi seguono tutt'altro stile e questi atteggiamenti e comportamenti fanno parte di una sorta di percezione che magari si rifà più al beh, ogni tanto ci sono, ogni tanto non ci sono, vediamo un po' come va a finire, no? Vediamo un po' che succede. A volte sono presente, a volte non sono presente. Comportamenti Se lui ti dice che ti ama dovresti sapere, pensare che quell'idea che lui ti ama in realtà è funzionale a quel preciso istante The guy is not loving you forever Non ti amerà per sempre perché in realtà l'amore è funzionale al momento stesso in cui viene detto non è una cosa che si perpetra nel tempo per la stessa intensità Tizio, Cagli e Sempronio, i miei competitor in giro dicono il sentimento è una cosa che dura rispetto invece all'emozione ok, sì, ma no, cioè nel senso il sentimento non è un qualcosa che dura con la stessa identità intensità Quando Tizio ti dice che ti ama, ok? In quel preciso istante Istante I miei compaesani che vedono questo video sicuramente saranno contenti io uso la cadenza di ansio quando dico queste cose Istante la D al posto della T I miei competitor direbbero che il sentimento è dura duro nel tempo ma in realtà si dimenticano di dire che l'intensità è quello che ci interessa di base Io devo sapere che l'intensità espressa in quel preciso istante in quel sentimento l'amore è finalizzata ed è presente solo in quel preciso istante non è dopo con la stessa intensità Se io sono cosciente di questo sono cosciente del fatto che l'intensità è sempre diversa cambia sempre so che mi posso rapportare con quella persona con coscienza del fatto che quel sentimento sarà diverso di intensità il giorno dopo quindi l'amore e la mia attesa sulla base d'amore di quella persona sarà diversa e l'idea che lui possa essere interessato a me si traduce come primo segno sulla base dei comportamenti che mette in pratica i miei confronti che confermano quello che ha detto il giorno prima o confermano quello che ha detto la settimana precedente se io so questo posso in realtà pensare che lui sia davvero interessato perché si perpetra nel tempo cioè continua con il passare del tempo se continua con il passare del tempo e mi dimostra interesse io posso fare ok metto le mani in alto e sto un po' più tranquilla questa è l'idea che dovresti avere tu no? ti amo ok sì ma non ti voglio vedere that's not love non è amore è schifo è diverso è un'altra storia just another story quindi no invece ti amo però ti voglio sempre vedere voglio stare con te voglio fare cose per te voglio dimostrarti cose ok voglio investire come se tu fossi una sorta di business si potrebbe dire tuttavia quindi prima cosa importante atteggiamenti e comportamenti che confermano le parole parliamo invece di un'altra cosa che dovrebbe essere il segno secondario che è la costanza nei messaggi cioè nel senso mi interesserebbe vedere una persona nei messaggi che non sia tendenzialmente come dire troppo manipolativa nel senso inizialmente ci può stare la manipolazione perché in realtà la manipolazione stessa è segno di interesse perché altrimenti perché cercheresti di manipolare qualcuno se non te ne frega niente di quella persona se a me per esempio non frega più niente non ho più attese dalle persone che succede? mi ritrovo a fregarmi di applicare tecniche tant'è che quando escono persone mi dicono che io sto manipolando sto facendo cose oppure frequento persone per messaggio tu stai manipolando stai facendo questo seduzione tossia whatever idioti perché non sanno che la mia attesa nei loro confronti è pari a zero posso vantarmi adesso di aver raggiunto uno status quasi almeno credo non so per quanto duri in realtà magari poi crollo completamente però adesso vanto di aver raggiunto uno status di attesa pari a zero anche sotto zero in tutto lo che mi circonda che è una sorta di sensazione strana perché in realtà è una sensazione di attesa del male e di presunzione del male che è quasi liberante cioè non avere quindi quell'approccio e quell'assetto del ok deve per forza accadere questo devo per forza avere questa cosa che si verifichi nella mia vita per confermare la mia felicità dunque per messaggi quello che si verifica è che le persone pensano che magari io faccia tecniche di manipolazione e seduzione in realtà non me ne frega un cavolo per non dire parolacce e quindi se un uomo fa tecniche di seduzione e manipolazione nei tuoi confronti perché è interessato dopo che avete letto la Bibbia ok quindi dopo che avete letto la Bibbia continua a fare queste cose è perché in realtà ti vuole sedurre o ti vuole manipolare se esagere e fai un overboard con questo in realtà è tossico quindi è una persona che comunque vuole dominarti non vuole affiancarsi a te e non vuole averti a fianco vuole averti sotto di sé che è per esempio una caratteristica tipica mia a volte no con alcune persone tendo ad essere dominante no ma adesso non si verifica più thank god ok grazie a Dio quindi per messaggi secondo segnale è inizialmente seduzione magari tossica approcci manipolativi ritardi di risposte ti interessa questo perché in realtà dimostra inizialmente un interesse potenziale dopo in realtà vuoi vedere una spensieratezza e propositività estrema cioè indifferenza e non calcolo nel contesto relazionale stabile cioè se io sto frequentando una persona non voglio più pensare o dover pensare che questa persona stia pensando quindi io penso che lui pensi secondo livello di pensiero che lui sta facendo tecniche ok quindi che lui sta facendo cose o che sta cercando di sedurmi in un certo modo specifico e che si sta rapportando a me in un certo modo in un particolar modo non voglio pensare questo perché non voglio pensare questo perché voglio che la relazione poi si sviluppi in fluidità che entri nel flow quindi il secondo segnale è che io noto che dopo circa due settimane tre settimane barra quattro anche o scusami due mesi anche si inserisce un contesto quasi di fluidità relazionale e lì non ci sono più tecniche non ci sono più cose che vado a fare lui non fa più cose nei miei confronti io non faccio più cose per sedurre la cosa è diventata just pom 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 just go 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 è tipo ci vediamo ci frequentiamo ed è molto molto fluido la cosa segue una linea abbastanza semplice ok quindi ha un'impostazione super semplice e non è frizionata è oleosa cioè la definisco oleosa cioè come se fosse olio puro olio extravergine d'oliva adoro terzo segno importante quindi questo è il secondo per i messaggi quindi li vuoi analizzare e visualizzare in questo modo terzo segno importantissimo in realtà è la cadenza e la frequenza se i messaggi vanno bene il rapporto è solo virtuale però e non c'è una cadenza o frequenza nel vedervi cioè non avete una certa stabilità nel vederti nel vedervi del tipo una volta a settimana inizialmente una volta ogni 4-5 giorni due volte a settimana dopo i primi due mesi più o meno come standard line ok non è così se non è così non è interessato a tenerti per qualcosa di stabile non è un interesse genuino io non vedo le donne che non voglio vedere come relazioni stabili più di una volta ogni 10-15 giorni perché? perché prima di tutto se sei in centrale nel business come sono io adesso sto passando un periodo di lavoro super stressante super pesante non riesco a pensare di dover fare di dover vedere una persona così tanto non riesco proprio anche se voglio una relazione stabile magari io sono improntato una monogamia ovviamente monogamia percepita come legame quindi non nella fisicità nella lettura della Bibbia quindi attenzione perché qua non posso dire alcune cose che ho detto nel videocorso dove mi sono esposto molto per mostrarvi esattamente quelli che sono i miei processi mentali non lo posso fare qua perché qui vengo ghettizzato categorizzato etichettato criticato impantanato impallinato vengo distrutto proprio a livello mediali se potrebbe dire non posso farlo qua però posso farlo nel videocorso quindi nel videocorso spiego bene questa cosa e cosa intendo comunque digressione a parte tornando al discorso tu vuoi che ci sia una cadenza settimanale almeno per i primi due mesi poi due volte a settimana tre volte e poi si va verso la convivenza relazione stabile e altro perché questo perché se lui mantiene tutto nel virtuale e ti dice io ti vorrei tanto vedere ti vorrei tanto vedere ti vorrei tanto vedere ci sono donne che fanno questo a me ok come stai si chiamano attention horse che sarebbero le diciamo donne che si fanno pagare per attenzione detta così donne che si fanno pagare nel serio più antico del mondo per l'attenzione sarebbe non posso dire parolacce e questo significa che loro campano di attenzioni e la stessa cosa fanno gli uomini lui campa solo le attenzioni non ti chiede di uscire o comunque frequenta anche altre donne e quindi non ti chiede di uscire più di una volta a settimana non mette una cadenza settimanale una frequenza settimanale e non mette non inserisce quindi il doppio il triplo le triplo le volte che uscite due volte che uscite tre volte che uscite non si verifica questo e questo è un problema grave perché in realtà poi se tu porti avanti la relazione solo nel virtuale penserai che sia comunque una relazione anche se vede una volta al mese una volta ogni 15 giorni in realtà non lo è ok quindi attenzione a valutare questa cosa questi sono i segni importanti per capire i tre segni importanti per capire se sei davvero interessato spero che sia stato d'aiuto seguimi qua se hai piacere iscriviti al canale in descrizione trovi tutti i miei libri consulenze, servizi, percorsi Patreon, video, risposte seguimi su tutti i social mi trovi sempre con nome e cognome Federico Picchianti and I'll see you in the next bye